L'Energy Manager è colui che indirizza e supporta l'azienda e gli enti nella corretta gestione dei consumi energetici e nell'individuazione degli interventi da realizzare. Nello spazio Alperia torna l'ingegner Livio De Kikis, Energy Policy Analyst di Fire, la federazione italiana per l'uso razionale dell'energia. Allora, all'ingegner Luigi De Kikis, che è il nostro ospite, adesso il compito di spiegarci quali siano gli aspetti di rilievo che hanno caratterizzato l'evoluzione della figura dell'Energy Manager è il nostro tema attuale e in questo preciso istante quale importanza possa rivestire per le pubbliche amministrazioni in modo particolare ma anche per i privati? Dunque, Fire ha il ruolo, il compito di gestire le nomine dell'Energy Manager e l'aver implementato una piattaforma per fare questo al meglio ci consente di tenere sott'occhio l'andamento delle nomine negli anni, che è stato un trend di continua crescita. A partire dal 2014, le nomine sono cresciute. Dal 2014 al 2020 c'è stato un incremento del 15% delle nomine ricevute da Fire. Nel 2021, che è l'ultimo anno di cui abbiamo i dati completi a disposizione in questo momento, c'è stato invece un calo delle nomine, un calo che si attesta più o meno al 5% rispetto all'anno precedente. Questo è un calo però quasi totalmente ascrivibile ai soggetti obbligati, mentre dall'altro lato i soggetti volontari hanno continuato a incrementare il loro numero. E quindi questo calo del 2021 è parzialmente spiegabile con la crisi degli ultimi anni, che può aver portato a una riduzione dell'energia gestita dalle imprese, dei consumi energetici delle imprese, che probabilmente sono finite sotto soglie, quindi non sono state più obbligate a nominare l'Energy Manager. Quindi non è un calo drammatico, non è un calo che ci preoccupa. Ci preoccupa più invece la situazione che citavi della pubblica amministrazione, perché in questo caso il settore, il comparto è storicamente afflitto da un elevato tasso di inadempienza. Nonostante ci siano diverse nomine da parte di piccoli comuni, quindi anche qui si sottolinea il ruolo, l'importanza delle nomine volontarie, ma i soggetti obbligati alla nomina della pubblica amministrazione, i soggetti che dovrebbero nominare, lo fanno in percentuale molto bassa. E questa è sicuramente un'opportunità sprecata ad oggi e che sia auspica possa migliorare nei prossimi anni. A una professionalità qual è la sua, ingegnere, e dal punto di vista del vostro osservatorio privilegiatissimo di FIRE, che cosa è importante oggi per investire in efficienza energetica, o meglio, quali sono le carte vincenti per un'impresa che voglia ottimizzare le sue risorse? A me piace sempre sottolineare tre aspetti che definirei, almeno tre aspetti che definirei conseguenziali, quando mi viene chiesto cosa si può fare per fare efficienza energetica, cosa significa utilizzare meglio l'energia. In primis ridurre gli sprechi, che è un qualcosa che spesso si dà per scontato, spesso viene considerato un qualcosa di banale, ma quando ci interfacciamo nelle realtà di tutti i giorni vediamo che spesso non è così. Per fare un esempio banale, possiamo installare la tecnologia più performante, ma se non la utilizziamo al meglio, se installiamo l'impianto di illuminazione più efficiente possibile, ma lasciamo le luci accese di notte, non stiamo usando al meglio l'energia. Fatto questo, si può prevedere una sostituzione di tecnologie più obsolete con altre più efficienti, che richiede sicuramente un investimento, un fee iniziale maggiore, ma riesce a garantire anche risultati poi superiori ai singoli interventi più puntuali. E queste due operazioni sono in ottica di riduzione della domanda di energia. Una volta ridotta la domanda, si può pensare di andare a coprire la domanda residua con energia prodotta da fonti rinnovabili. In questo modo quindi si opera sia a vantaggio dell'ambiente, andando a ridurre le emissioni di CO2, sia a vantaggio del portafoglio dell'utente stesso, che riesce a risparmiare sia grazie alla riduzione appunto di domanda di energia, perché ricordo sempre che la prima fonte di energia risparmiata è quella che non utilizziamo e poi cercando di utilizzare per la residua quota parte rimasta energia prodotta da fonti rinnovabili. Questi, per tornare all'argomento, sono tutti aspetti di cui un energy manager si occupa nella sua attività. Ringrazio per i saggi concreti e utili suggerimenti dati dal nostro ospite, che ricordo essere stato l'ingegner Livio De Kicchis, Energy Policy Analyst di FIRE, che ricordo essere la Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia. È stato un piacere al punto che la rinnoverò questo invito per altre occasioni, perché la professionalità che si abbina anche alla capacità di farne un uso di comunicazione congruo è merce rara di questi tempi, quindi ingegnere si aspetti altre nostre convocazioni. Intanto grazie per la collaborazione che ci ha dato. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!